Luce spaventerà, serpente mi ucciderà. È vero. Che ne dici se tiro via il lenzuolo di scatto e scaravento il serpente? Chiama, dottore. Mi guardò come per dirmi che avrei dovuto pensarci subito. Un dottore, ma certo, giusto, chiamerò il dottor Ganderby. Raggiunsi l'ingresso, cercai il numero nell'elenco, sollevai la cornetta e dissi al centralino di sbrigarsi. Dottore, sono il supervisore Woods. Salve, signor Woods, non è a letto? Venga qui subito e porti del siero, per un crate. Siero per un crate? Chi è stato morso? La domanda fu come una piccola esplosione nel mio orecchio. Nessuno, nessuno ancora. Harry Pop ne ha uno che gli dorme sulla pancia sotto il lenzuolo. Per circa tre secondi la linea restò muta. Poi, parlando lentamente, non come un'esplosione, adesso il dottor Ganderby disse... Non deve muoversi e non deve parlare, ha capito? Certo, dottore. Arrivo subito. Riattaccò e io tornai in camera. Gli occhi di Harry mi guidarono al suo letto. Il dottor Ganderby arriva e dice di non muoverti. E cosa ho fatto finora? Ha detto anche di non parlare, nessuno dei due. Allora sta zitto.